La pesca può dare molti frutti, se si fa come dico io però. Ma certe... La buonoscenza da Giovanna. Prima perché la regola bisogna rispettarla e poi perché bisogna portare il rispetto a me. Io volevo solo un'altra anima che mi venisse a stringere la mano. I bambini penseranno che li ho abbandonati. No, sei solo un pallino. Mi vuoi cacciare? Sì. Mi vuoi cacciare? E cacci! E cazzami adesso! Adesso, mica, non ci vuoi cacciare a me! Buonanotte! Vaffanculo, va! Non ho bisogno di soldi, Vittorio. Tu lo sai che se ci beccano c'è la galera? Io mi scocollarete! Non coi le pomme! Scusa, Vizare. Sto sbagliando dolce, perdona. Non mi abbandonare. Ho paura. Certi nostri sei. Non sapresti.